Cosa posso aspettarmi dopo una diagnosi di mieloma? Il mieloma è un tumore che colpisce un tipo di cellule del sangue chiamate plasmacellule, causando sintomi quali alti livelli di calcio, problemi e ireni e lesioni ossee. Questo tumore è anche noto come malattia di Calar, mieloma multiplo e mieloma delle plasmacellule. Una diagnosi di mieloma è spesso seguita da un processo chiamato staging del cancro, che può comportare esami del sangue, raggi X, immagini di risonanza magnetica, risonanza magnetica, e tomografia con poterizzata raggi X, TC scan. La stadiazione del cancro viene effettuata dopo una diagnosi di mieloma per determinare quale dei tre stadi della malattia è un paziente specifico, valutato dallo stadio I, che è una malattia precoce, allo stadio I, che è più avanzato. Una volta determinata l'estensione della malattia, è possibile raccomandare varie opzioni di trattamento, come i farmaci chemioterapici, il trapianto di midollo osseo, il trapianto di cellule staminali o la radioterapia. Due esami del sangue vengono spesso eseguiti dopo una diagnosi di mieloma per determinare lo stadio della malattia. Questi test sono un test di albumina del sangue, che può essere utilizzato per determinare se vi è un danno renale o un test microglobulina beta 2, che viene utilizzato per determinare il modo in cui le cellule plasmatiche sono colpite. Una scansione tomografica con poterizzata, che fornisce immagini dettagliate dei raggi X delle ossa e una risonanza magnetica, che fornisce anche immagini dettagliate del tessuto interno, a volte vengono eseguite dopo una diagnosi di mieloma per determinare l'entità di eventuali lesioni ossee. L'International Staging System, ISS, viene spesso utilizzato dopo una diagnosi di mieloma. La stadiazione della malattia viene effettuata sia per determinare quali trattamenti possono essere raccomandati sia per aiutare a predire la sopravvivenza dei pazienti. I pazienti con mieloma di stadio e hanno pochi sintomi senza danni alle ossa e livelli di calcio che sono normalmente normali. Per questi pazienti, i medici a volte raccomandano ciò che viene chiamato l'attesa vigile, che non comporta alcun trattamento medico, ma controlli regolari. La sopravvivenza media è superiore a 5 anni per i pazienti con mieloma di stadio I. Nel mieloma in stadio I ci sono più cellule tumorali presenti e la sopravvivenza mediana è di poco più di 4 anni. I pazienti con mieloma in stadio I hanno lesioni ossee avanzate, anemia e alti livelli di calcio e la sopravvivenza mediana è di poco più di 2 anni. Vari tipi di trattamenti possono essere raccomandati dopo una diagnosi di mieloma per i pazienti nella fase I e nella fase I. La chemioterapia combinata, che prevede l'uso di diversi farmaci, radiazioni mirate tra pianti di cellule staminali o midollo osseo può essere parte del trattamento. Questi trattamenti possono rallentare la malattia o portare alla remissione del cancro, ma possono anche avere gravi effetti collaterali, come perdita di capelli, nausea e vomito.